Salve a tutti ragazzi, sono sempre Iomenzo e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi torniamo a parlare di calciomercato perché l'Inter ha ufficializzato Keita Baldè di Aura. Prima di cominciare con il video vi ricordo che potete acquistare la mia maglietta nel link in descrizione. Primo link trovate anche il link per seguirmi su Instagram, signori. Allora, come detto, ufficiale l'acquisto di Keita Baldè, prestito con diritto di riscatto sui 30 milioni. Praticamente il prezzo è lo stesso che è stato pagato dal Monaco alla Lazio per acquistarlo l'anno scorso. Quindi alla fine il suo prezzo non si è ne alzato, non si è abbassato. Allora, signori, acquisto che inizialmente non mi ha, diciamo così, non mi ha eccitato. Probabilmente perché in questo momento gli interisti stanno pensando a quel colpo che non arriverà mai. Modric hanno la testa lì, sono depressi perché probabilmente Modric non arriverà mai. Anzi, sicuramente Modric non arriverà. E quindi qualunque tipo di colpo viene un attimo sbattuto lì nel dimenticatoio. Invece, ragazzi, pensandoci bene, chi è Keita Baldè? Keita Baldè è un giocatore che inizialmente conosce già il campionato italiano. E molto probabilmente è stato voluto da Spalletti in quel famoso incontro quando si parlò anche di Vidal. Perché praticamente l'Inter ha una casella da extracomunitario che non è stata spesa per Vidal. Semplicemente, ragazzi, perché bisognava spendere molto probabilmente per un colpo così, per un esterno d'attacco come vuole Spalletti. Come lo vuole Spalletti? Un esterno d'attacco in grado di saltare l'uomo, in grado di creare qualche occasione offensiva importante e magari anche di buttarla dentro più spesso di un giocatore che si chiama Antonio Candreva. Allora, ragazzi, come detto, questo è un giocatore chiaramente voluto da Spalletti, che conosce già il calcio italiano, che conosce già Spalletti, nel senso che Spalletti lo conosce già, considerato il fatto che l'ha avuto contro un paio di volte e non è andata a finire sempre bene, diciamo. A parte questo, Keita è un colpo positivo, secondo me, promosso questo colpo, che alza il voto per quanto mi riguarda del calcio americato dell'Inter, non lo stravolge, perché comunque Keita è un buon giocatore, che alza il valore ancora di più della Rosa, comunque il potenziale di questa Rosa, che adesso ha praticamente tutti i reparti completi, la difesa sicuramente è completa, a parte se si deve andare a giocare a tre, ma vabbè, quelli sono altri discorsi. Forse manca un centrocampista, però l'attacco sicuramente è completo, comunque abbiamo parecchie alternative, ecco, a sinistra Perisic, Politano, Keita, a destra Keita, Politano, Candreva, Caramò, Lautaro Martinez sulla tre quarti, quindi, ragazzi, abbiamo parecchie opportunità offensive. Keita è molto importante perché, come detto, può fare sia la fascia destra che la fascia sinistra, può fare anche la seconda punta nell'evenienza, quindi, è un giocatore che, come detto, è tecnico, è veloce, piazza Spalletti proprio per questo, soprattutto è anche fisico, è un giocatore che non lo butti per terra facilmente, è tamugno, è tosto e lotta, lotta parecchio. Per questo sono contento del suo arrivo perché ci potrà dare sicuramente un qualcosa in più per quanto riguarda il reparto offensivo, cosa che non è riuscito a fare Candreva l'anno scorso, Candreva ha fornito otto assist e zero gol. Per un esterno d'attacco che ha giocato sempre titolare, praticamente, è veramente, ma veramente poco infima queste cifre. Tra l'altro ce l'ho qui fresche fresche, se lo ritrovo, ok. 16 gol e 4 assist in 30 presenze nella sua ultima stagione in Serie A, mentre nell'ultima stagione, quella al Monaco, ha segnato 8 gol e 5 assist in 30, in, scusate, 23 presenze, quindi qualche presenza in meno, qualche gol in meno. E' vero che dipende anche da dove ha giocato perché se giochi come esterno, fare gol è un po' più faticoso, se giochi da seconda punta ti viene sicuramente meglio, sei più vicino alla porta, non c'è assolutamente dubbio. Comunque ragazzi, colpo assolutamente promosso, fatemi sapere voi cosa ne pensate, fatemelo sapere sotto nei commenti, chiaramente mi viene da pensare al fatto che probabilmente non so chi potremmo riscattare il prossimo anno, dipende dalle prestazioni, Versalico, Politano, Keita, abbiamo un sacco di giocatori in prestito e con diritto di riscatto, questo è vero, è vero che potremmo inserirli tutti in lista Champions, quindi nessun problema da questo punto di vista. Ora però bisogna vedere come Spalletti utilizzerà questi giocatori, perché Perisic sulla sinistra è intoccabile, è vero, ma quando è un attimo in calo deve sapere che può anche sedersi in panchina, a quel punto Politano e Keita possono essere sicuramente una buona alternativa, Politano forse è meglio farlo partire da destra, essendo Mancino. Sulla destra invece abbiamo Keita, Politano, Candreva, Caramò, mi spiace per Candreva, perché ragazzi l'anno scorso non ha fatto bene, questo è chiaro, bisogna vedere come lo utilizzerà Spalletti, magari in Coppa Italia, nelle partite dove qualcuno deve rifiatare, questo è sicuro. Mi spiace per Caramò, che probabilmente adesso verrà utilizzato veramente con il contagocce, a meno che non si vada con una doppia punta o due trequartisti, come nel 3-4-2-1, a quel punto Caramò può essere utile, mi spiace proprio per Caramò, perché si vede che è un giocatore forte. Ma comunque questo video dedicato a Keita, sono contento, sono contento, anche la prima cosa che mi è passata veramente appena si è parlato di Keita è un po' il suo comportamento, anche nei suoi passati alla Lazio è un po' una testa calda, diciamo così, dai Keita. Non nascondiamocelo, però ragazzi adesso ha 23 anni, 24, quanti ne ha? È cresciuto. Questo è il momento in cui un calciatore deve dare il massimo, deve star lì con la testa, se vuole diventare veramente un campione. E spero ovviamente faccia così all'Inter, cresca positivamente. Se è un giocatore positivo per lo spogliatoio, non penso ci saranno problemi con i cardi, penso anzi che i due si conoscano, se non sbaglio, per le giovanili al Barcellona, ecco. E niente ragazzi, io sono contento di questo colpo, come detto ci dà più possibilità in attacco e aumenta il voto per quanto riguarda il nostro calciomercato. Arriverà un video di calciomercato generale alla fine appunto di questo periodo, praticamente all'inizio del campionato, quindi fatemi sapere appunto cosa ne pensate ragazzi, vi piace questo colpo? Come lo vedete Keita sarà positivo per l'Inter? So di molte squadre che stanno rosicando per questo acquisto, quindi bene così. Fatemi sapere la vostra ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video, saluto alla mezza prossima. Ciao a tutti ragazzi.